Questo è quello che succede se non tenete d'occhio in maniera precisa gli ammortizzatori e la vita degli ammortizzatori. Seguite il video e venite a vedere che cosa abbiamo fatto su questa BMW Z4. Bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive. Come premesso oggi parliamo appunto di questa vettura che è una BMW Z4 2000 xDrive dove il cliente appunto ci ha contattato dicendo guarda la macchina non sta in strada ho dei problemi veramente cioè mi sembra molto strano che la macchina si comporti in questa maniera. Sono andato anche in BMW fantastico sono andato anche in BMW a farla controllare e secondo loro la macchina era tutta a posto. Chiamo voi per avere una consulenza e capire un attimo che cosa come posso ripristinarla perché da nuova andava perfettamente adesso la macchina non tiene la strada. Detto questo l'abbiamo invitato in officina abbiamo controllato mettendo la macchina sul ponte la cosa della quale ci siamo accorti immediatamente mettendo la macchina sul ponte era il fatto che uno di due ammortizzatori anteriori l'ammortizzatore nello specifico ammortizzatore anteriore destro era scoppiato si vede chiaramente da questa parte dove c'è l'OR che fuoriuscito dalla parte diciamo dell'ammortizzatore. Quindi ovviamente la macchina con un ammortizzatore completamente inefficiente ovviamente la tenuta di strada era un compromesso. Quello che ci ha stupito al di là del fatto di vedere un componente di questo genere che comunque può capitare il fatto che uno va in BMW e gli dicono che è tutto a posto. Vabbè tralasciamo questo piccolo particolare. Una volta che abbiamo determinato qual era il problema abbiamo suggerito al cliente di intervenire ovviamente per ripristinare la situazione facendo al contempo un upgrade quindi come abbiamo come ho spiegato tante volte noi facciamo elaborazioni facciamo riparazioni e facciamo a volte delle riparazioni dove è possibile andando a utilizzare dei componenti migliori più performanti rispetto a quelle di serie. Nello specifico in questo caso abbiamo montato la macchina è già finita questo premetto quindi qui abbiamo montato quattro molle eibac pro kit che hanno abbassato di circa 25 millimetri l'altezza della macchina e abbiamo montato quattro ammortizzatori bilstein b8. Allora quello che volevo farvi notare sostanzialmente è questo dunque questo è un ammortizzatore monotubo e questo è un ammortizzatore bitubo questa è la prima differenza sostanziale perché il monotubo ovviamente dove scorre il pistone c'è molto più olio perché la camera è unica in questo caso dove scorre il pistone le camere sono due quindi l'olio è la quantità di olio è molto inferiore. Altra cosa che si vede a vista è il diametro dello stelo cioè questi qua sono due ammortizzatori perfettamente identici il diametro dello stelo ovviamente cambia da uno a tre quindi già questo visivamente vi fa capire come un ammortizzatore di questo genere rispetto ad un ammortizzatore originale sia completamente un altro pianeta. Ovviamente montando ammortizzatori nuovi sportivi e le molle adesso abbiamo provato la macchina la macchina funziona perfettamente quindi il lavoro per noi relativamente semplice però assolutamente indispensabile quindi come ho premesso all'inizio mi raccomando non trascurate dei controlli periodici prima di arrivare a situazioni di questo genere perché soprattutto ma che siano anteriore o posteriore cambia poco il fatto che se voi non vi accorgete e cominciate a sentire una differenza in termini di tenuta il suggerimento è quello di far controllare immediatamente la macchina perché se andate avanti e non la fate controllare succedono poi cose anche gravi cioè la macchina a livello di tenuta di strada viene compromessa in maniera totale come montare una gomma liscia e tre gomme e tre gomme buone la macchina non potrà mai andare andare dritta quindi questo sostanzialmente per dire che si possono fare dei lavori di riparazione però utilizzando dei componenti nettamente migliori rispetto a quelli di serie io direi che anche per questa bmw è tutto vi invitiamo a consultare il sito www.nominagiri.it dove trovate nell'archivio elaborazioni oltre 3500 vetture e come bmw siamo mi sembra sui 350 bmw troverete anche questa scheda vi invitiamo a contattarci telefonicamente in sede allo 02 7383 175 io sono sempre lì tutti i giorni dal lunedì al venerdì anche sempre per un solo per un semplice consiglio anche tecnico meccanico ricevo tante telefonate non sono a pagamento cliccate sulla campanella e soprattutto rimane iscrivetevi al canale per aiutarci a farlo crescere per rimanere sempre in contatto con tutto quello che noi facciamo alla prossima un saluto un saluto